Ti proteggerò Salve a tutti, oggi ci occupiamo di un tema particolarmente caro alla donna, la sua salvaguardia, la sua vita, la sua realizzazione. Ecco perché l'8 marzo noi sappiamo le origini purtroppo disastrose delle donne che sono perite nell'incendio della fabbrica e che ha dato l'origine poi a questa riflessione sulla donna e sulla sua condizione femminile. E oggi ascoltiamo con terrore crescente i casi di femminicidio, i casi in cui la figura femminile viene ancora schiavizzata e stasera ci occupiamo della figura femminile con tre amiche che hanno accettato di partecipare a questa trasmissione. Angela Garruba, dottoressa in geriatria e ulcere cutanee presso il presidio ospedaliero di Corato, Claudia Ceci, giornalista e anche fondatrice del giornale Cittadino Idea in Piazza, e Anna Maria Stella Pansini, soprano, insegnante di canto lirico presso l'Accademia Federiciana, nonché anche freelance potremmo dire perché partecipi a diversi concerti in giro per l'Italia. Allora la prima domanda la rivelgiamo a Angela, la dottoressa Angela. Qual è l'immagine che ci rimanda l'ospedale quando si parla dei dottori e si parla dell'immagine femminile nella medicina? Qual è il ruolo della dottoressa? Io prima di tutto ringrazio per questo invito e per l'argomento che trattiamo. Io sono tra virgolette un medico vecchio, cioè nel senso che mi sono laureata nel 1986, quindi posso un po' dire la storia del cammino della donna dall'86 in cui non c'era quella pletora di donne medico ad oggi. Qualcosa è cambiato ma molto poco rispetto a quello che dovrebbe normalmente essere, cioè il sesso, il fatto di essere donna non dovrebbe essere una deterrente per un cammino professionale, ma purtroppo tuttora ancora lo è. In alcuni particolarmente settori, paradossalmente anche la ginecologia, che se vogliamo è un settore che abbraccia il mondo femminile, noi vediamo sempre una netta prevalenza della figura maschile perché c'è un po' uno stereotipo, cioè che il chirurgo viene individuato in una figura maschile. Questo chiaramente penalizza moltissime colleghe donne. Io personalmente l'ho provato sulla mia pelle perché occupandomi, come la dottoressa Quagliarella sottolineava, di ulcere cutanee, ho richiesto, mi sono imposta nel richiedere il mio ingresso in sala operatoria e, a parte che sono di origine internistica, sono una geriatra, seppure laureata in medicina e chirurgia, ma soprattutto perché sono donna, ho trovato non poche difficoltà. Quindi nel mondo medico, nonostante la figura femminile sia, secondo me, sinonimo di dolcezza, e questo accompagna il malato con tutta la sua problematica, a volte in maniera molto più leggera rispetto a quello che è un approccio maschile più rude. Poi c'è anche un altro aspetto, io sono un po' di parte perché sono una sostenitrice delle donne, infatti la mia equip nell'ambulatorio è tutta al femminile, mi trovo benissimo, mi sono sempre trovata benissimo con le mie colleghe, perché io dico che noi donne nasciamo ancora con mille cose da fare, cioè da quando siamo piccole ci insegnano a fare più cose, più ruoli, quello di figlia, poi crescendo di madre, di professionista, eccetera. Questo nel mondo del lavoro ci aiuta perché riusciamo continuamente a fare più cose, riusciamo a farle con molta leggerezza, con molta facilità, maggiore devo dire rispetto a molti, molti, molti uomini. Quindi senza sottolineare differenza, se non fare il discorso al contrario, però io dico che ancora la donna deve pressare, lottare per avere una pari dignità nel mondo sanitario. Grazie. Claudia, la donna è la parola, la donna è lo scritto, ci sono figure splendide nel passato di donne che hanno veramente scritto e hanno messo in versi la loro anima, e non solo in versi, in prosa, noi in Italia abbiamo scrittrici grandissime, Elsa Moranti, Oriana Fallaci, insomma ce ne sono tante, Dacia Mareini, non voglio peccare nel non nominarle tutte, però veramente abbiamo una schiera di donne che si sono occupate in maniera egregia della scrittura, dei libri, dell'opera. Qual è la tua esperienza nel mondo appunto del giornalismo come donna? Allora, nel mondo del giornalismo io non noto oggi tantissime differenze nel rapporto uomo-donna, cosa che invece è stata nei decenni precedenti, nei secoli precedenti, dove la parola era appannaggio maschile. Oggi, sia pure in alcuni ambienti, penso che prevalga ancora una minima dose di maschilismo, credo che la difficoltà vera sia quella generazionale, parlo della mia generazione, parlo anche della generazione successiva alla mia, in cui c'è poco spazio. La comunicazione, la parola, il giornalismo è diventato di tutti e forse troppo, nel senso che spesso non si è più disposti a retribuire questo mestiere, perché la concorrenza di persone che scelgono di scrivere gratis pur di firmare, di apparire, è altissima. Leggevo, per esempio, nei giorni scorsi di una ragazza che ha rifiutato un impiego a Milano per 340 euro al mese, cosa che, a parere mio, dovrebbero fare tutti. Invece questo non succede. Per quanto riguarda la mia esperienza, io vado avanti e cerco di lavorare al meglio di quelle che sono le mie capacità. Ad Andrea abbiamo messo su con un'associazione che si chiama Officina Andriese, un periodico che ho qui, che si chiama Idee in piazza, in cui scegliamo di raccontare... Voglio farlo vedere così, c'è un'iniziativa che abbiamo vissuto qui ad Andrea l'altro giorno, il 7 marzo, presso Genius Loci. Abbiamo vissuto un momento al femminile, eravamo sei le relatrici e davvero è stato un bel momento. Quindi la vostra associazione ha vissuto questo momento come anche un momento di conoscenza alla città, perché non era tanto conosciuto questo giornale. Sì, è stato... cioè la nostra idea è stata quella di raccontare storie di donne. Da un certo punto di vista per celebrare le donne per la giornata internazionale della donna, ma non solo per celebrarle, ma per entrare nelle loro vite, nelle loro storie e raccontare un territorio che si sta muovendo tanto grazie alle donne. Quindi abbiamo esperienze di artiste, imprenditrici, psicologhe, volontarie. Insomma, abbiamo cercato di trovare un esempio per ogni ambito. Teologhe. Teologhe. Un esempio per ogni settore della società, della città ed è nata una bella iniziativa, perché poi c'è stato un convegno, un momento di confronto e di riflessioni interessante. Bene. Anna Maria. Bene. Anna Maria Stella, perché per una soprano Stella è anche un bel nome, no? È subliminale, certo. Ecco, infatti, qual è la tua relazione col mondo della musica come donna? Io, da permettere che ho cominciato quando ero bambina, no? Quindi è stato, diciamo, un crescendo, una passione che è nata man mano, perché da bambini si fa quello che i genitori ti dicono di fare, diciamo, per impegnarti con gli interessi, con le varie cose, no? Poi è diventata una mia passione e poi ho avuto difficoltà a inserirmi, perché adesso sono madre, moglie e quindi è un lavoro che ti porta via da casa per parecchio tempo e quindi bisogna lasciare organizzare tutto per bene, perché io sono una persona abbastanza... Allora, il mio marito si arrabbia perché dico che organizzo la sua vita, no? E invece... Invece no. E invece no, perché... La televisione pubblica può vederla anche il tuo marito, quindi stai attenta poi a quello che dici. No, no, però, ecco, non è facile mettere a frutto le proprie passioni e fare, diciamo, i conti con la famiglia e con tutto quello che ti riguarda, insomma. Certo, dovendo star fuori un bel po' di tempo è anche un problema con i figli, no? Sì, sì. Come organizzi poi... Mi ricordo, per esempio, nel 2004 mio figlio era piccolo, ho dovuto lasciarlo per un mese. Cioè, era una produzione al teatro, all'ente musicale trapanese, ho lasciato mio figlio per un mese e aveva solo due anni. Quando sono ritornata sembrava che avesse visto la Madonna, cioè l'apparizione, quando l'ho chiamato. E questa è una cosa che mi ha colpito molto, perché lì mi sono accorta che egoisticamente parlando, cioè, preferendo la musica alla mia famiglia, lì mi sono accorta di essere egoista. Però è la mia vita, la musica è una passione che ti prende l'anima, per cui uno non riesce a farne a meno. Io, quando calchi il palcoscenico, vuoi la polvere del palcoscenico, diventa quasi morboso. Più lo calchi e più hai bisogno del palcoscenico. Però io direi, forse questo è di ogni interesse, di ciascuna persona, perché voglio dire, questo credo che sia al di là del sesso, perché sia maschio che donna, nel momento in cui vivono questa adesione, effettivamente non riescono a staccarsi da questo. Sebbene la tua difficoltà, è bellissima questa definizione, tuo figlio è come se in quel momento ha avuto un'apparizione. Sì, perché non mi sentiva da tempo. Ecco, e tu quindi stai male. Non mi vedeva. Io praticamente mi ero portata una fotografia dei bambini per ricordarmeli, perché mia figlia aveva 4 anni, bambino 2, e quindi ho lasciato la famiglia e i bambini in un momento di crescita. Quindi ho perso parte della loro vita. Non so se un giorno non posso mai perdonarmelo per aver aderito alla mia... Alla tua passione, che però in quel momento è stata più forte di ogni cosa. Sì, più forte. Tra l'altro in quel periodo mi ricordo di aver rinunciato a 5 anni di insegnamento, perché io conosco il linguaggio LIS, cioè il linguaggio dei sordi, e mi ricordo che in quel periodo era arrivata una proposta di lavoro, di fare assistente alla comunicazione, a un ragazzo sordo che cominciava il primo geometra, e io ho dovuto scegliere fra i 5 anni di lavoro e un mese di lavoro, misero, cioè in un mese che cosa... mio marito si è arrabbiato, ovviamente, però io sono stata felicissima di aver scelto un mese di lavoro, ma era quello che volevo fare. Il tuo lavoro. Sì. Penso però questo che dice Anna Maria è vero anche per Angela, no? Perché credo che anche lì c'è una passione che viene fuori nel momento in cui si vede qualcuno che ha bisogno dell'aiuto. Sì, sì, sì. No, ma io volevo sottolineare questo. È commovente quello che dice Anna Maria, perché noi donne, ed è veramente quello che ci conia in un certo senso, siamo penalizzate da una mentalità e da una società che non ci aiuta. Quindi i sensi di colpa che Anna Maria ha provato e che tutti noi proviamo nel momento in cui abbiamo soprattutto dei figli, e quindi poi dobbiamo distaccarci per seguire le nostre passioni... Ma soprattutto se si cresce in una famiglia dove la famiglia viene al primo posto, poi tutto il resto. Sì. Io ancora mia madre, ancora adesso, mi dice ma dove vai, ma cosa fai, lasci i figli. I miei figli sono ormai grandicelli, 13 la bambina e 11 il bambino. E mi dice ancora adesso, stai a casa. Certo. E io combatto con la mentalità retrograda, con la difficoltà di essere donna nel mondo lavorativo, con la difficoltà di essere madre, moglie, cioè non è facile. Certo. Io penso, Angela, anche come dottore, no? Magari voi venite chiamati... No, ma a parte diciamo il fatto di essere chiamati, le reprimità, quelle cose che erano dei momenti di distacco, ma io, avendo seguito la mia passione, perché la medicina è anche a me una passione irresistibile, ed essendo andata oltre dal timbrare il cartellino e farmi le mie ore ospedaliere, ho investito in quello che tu sai benissimo è la vulnologia, quindi lo studio delle ulcere cutanee, e questo mi ha portato e mi porta tuttora a una serie di congressi fuori casa. Nell'arco di un mese, prima molto più frequentemente, adesso da l'uno, uno, due volte, io mi allontano da casa. E anch'io ho vissuto questi enormi sensi di colpa nei confronti dei figli, non aiutata come Anna Maria dalla famiglia, dalla società, dagli amici anche, anche da coetani, perché viviamo, secondo me, ancora con questa mentalità in cui la donna deve essere relegata al ruolo di madre, e su quello ci penalizzano, come se l'abbandonare momentaneamente i figli per seguire una passione sia un abbandono reale, quindi sia chi ci è accanto e sia la società non ci aiuta invece nel sviluppare le nostre passioni e quindi nel sgravarci da questi sensi di colpa che sono la cosa, secondo me, il peggior deterrente che la donna vive e possa avere e che blocca poi il cammino professionale di moltissime donne. Ed è veramente il laccio che ci pone la società, soprattutto maschile, ma in genere, per tenerci il più fermo possibile. Invece, secondo me, quando riusciremo a capire che non è la quantità, ma è la qualità che noi diamo ai nostri figli? Io l'ho provato, ecco, io ho avuto questa fortuna, se vogliamo, di avere due ragazze, ormai ventenni e diciannovenne, il bambino di dieci anni, quindi ho fatto dei figli a distanza. Io le figlie le ho avute tutte contro durante più dell'adolescenza, ero la nemica numero uno dei mie figli perché le avevo abbandonate, perché andavo ai congressi, perché, 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 perché. Adesso che loro sono donne, dici a novent'anni, universitarie, hanno i loro ragazzi, hanno la loro vita, io sono diventata per loro una diva, sono diventata una persona, mamma, tu ci hai insegnato a combattere, tu ci hai insegnato a... Allora, speranze. Hai speranza, no, Anna Maria, hai speranza, no. No, perché? No, perché nel momento in cui tu insegni e fai capire, loro capiscono che tu segui una passione. Ma certo. Lo capiscono i figli poi a distanza e quindi ti dico, le due mie figlie attualmente sono le mie migliori alleate in tutto, anche nel sgravami, quando io dico, ma che dici, devo lasciare il tuo fratello, devo andare, mamma, ma vai, ma dai, il tuo mestiere, cioè, mentre io prima mi auto colpevolizzavo perché ero colpevolizzata, quindi, ma forse sto esagerando, cioè, pur andando a fare lavoro, non certo divertimento. Quindi io sono convinta che bisogna seguire la propria passione perché è che il rapporto con i figli o con chi ci circonda è di qualità. E non di quantità. E non di quantità. Ecco, questo ci rimanda a un problema comune a tutte le donne. la necessità di essere autentiche, di essere oneste con se stesse e quindi di non fingere, di non tenerci particolarmente a determinate cose. Perché poi, comunque, queste situazioni che non vengono vissute si declinano poi in aggressività verso i luoghi, il quotidiano che noi viviamo. Claudia, che ha ancora un po' l'età della figlia, non della mamma, no? Cosa pensa di questo rapporto conflittuale madre-figlia? Molte volte è proprio un rapporto studiato, anche in psicanalisi ci sono testi, no? Volumi interi del rapporto madre-figlia. Credo che il riferimento all'adolescenza sia un problema un po' di tutti i rapporti madre-figlia. Credo che quella sia proprio l'età più conflittuale, in cui non si capiscono alcune cose, non si apprezzano alcuni insegnamenti, alcuni comportamenti. Per questo pensavo che, la vedevo abbastanza normale la dinamica del passaggio dai 15 ai 20 anni. A 20 anni una ragazza comincia ad avvertire il desiderio di realizzarsi e quindi la mamma può diventare un punto di riferimento, una diva, come dicevi, ma un esempio. Anna Maria, tu hai una figlia, le consiglieresti il mondo della musica? Se devo dirla proprio tutta, a lei non gli ha mai importato nulla. Ah. Se proprio, le piace cantare, no, infatti, a lei piace cantare, piace suonare. A casa non mancano tutti gli strumenti musicali, dal pianoforte, tastiera, chitarra. Mio figlio poi studiava anche violino. Anna Maria poi tra l'altro ha pure un marito musicista, un bravissimo pianista. Praticamente i miei figli sono cresciuti a pane e musica, quindi non... E io penso che sia proprio qui il problema, perché la musica o la si odia o la si ama. E quindi dicevo, mia figlia le piace, piace cantare, le piace la musica. Su questo non c'è dubbio, non sarebbe figlia di tale madre o di tale padre. Però lei ha una passione diversa, lei piace molto la fotografia, è molto, come dire, ha una vista molto acuta, cioè coglie particolari, che qua forse qualcun altro non coglierebbe. Quindi sono contenta anche che lei non abbia questa passione, ecco. Ma perché? Perché la ritieni dannosa proprio per ciò che dicevamo prima? Forse in fondo, in fondo, anche in te c'è quel senso di colpa, come un tallo. No, no, no. E dice, se no mia figlia anche lei si allontanerà dai miei nipoti. No, no, non credo, perché per me è stato faticoso lo studio, cioè anni di sacrifici, anni di rinunce, oppure, non so, c'era una festa di compleanno, io dovevo partire, dovevo andare da un'altra parte. Mi si diceva, ah, ma tu non ci vieni mai, non stai mai con noi, feste in famiglia, cioè ero, diciamo, la persona che mancava, quindi ero la persona presente e assente. Per cui, sacrifici che ho fatto, le rinunce, rinunciavo ad andare a giocare con le amiche, invece dovevo studiare pianoforte, dovevo studiare canto, dovevo, poi io studiavo anche composizione. Mi ricordo mio padre mi vedeva, non so, andare via la mattina e tornare la sera tardi e mi rimproverava dicendomi, questo non è un albergo, ma io andavo a studiare in conservatorio a Bari, avevo più materie nello stesso giorno o in giorni, in una settimana. Poi la notte studiavo e il giorno dopo ritornavo in conservatorio, cioè è una vita faticosa e in salita. Angela, come donna, nel momento in cui volevi approfondire determinate, diciamo, malattie e quindi avevi la necessità di isolarti, di studiare, io so che tu hai uno studio in cui ti isoli, creato apposta, in cui, diciamo, ti isoli, cominci a studiare, ti immergi nel mondo delle cellule. Ecco, nel momento in cui i tuoi figli chiedevano insistentemente la tua presenza, che cosa pensavi in quei momenti? Allora, devo essere sincera, nasco con uno stabbo un po' nevrotico nello studio, perché io ho avuto fortuna, sfortuna, io dico fortuna, di avere una madre professionista. All'epoca non era così facile, quindi io ho vissuto da bambina con una madre che non ha potuto fare i voli che ho fatto io, perché il rapporto di coppia era diverso, mio padre era uomo di stampo antico, però che ha mostrato tutta la sua dedizione al lavoro, a volte trascurandone i figli. Ma di questo io non ho mai subito, anzi l'ho ammirata come donna, perché era una donna che faceva di tutto, dalla madre alla moglie in particolare, alle lezioni private, faceva di tutto per la famiglia. Quindi il tempo che non mi ha regalato io l'ho qualitativamente, come ho detto prima, apprezzato ugualmente. Però ci ha insegnato questo studio matto e disperato quando studiamo, quindi le incursioni dei figli in molti casi, quando soprattutto erano gratuite e non motivate da seri motivi, mi davano letteralmente fastidio. Però devo dire la verità che siccome un po' l'indole di tutta la famiglia è di studio, quindi anche le ragazze avevano i loro momenti, che poi erano i miei momenti in cui ci appartenevamo, ognuno nella propria stanza e ognuno seguiva il suo percorso studi. Quindi grosse interferenze non ce ne sono state. Ho detto l'unica cosa, tuttora io per esempio adesso non vado più sopra perché la casa è rimasta una figlia, ho due figlie fuori, quindi siamo rimasti io e mio marito e il piccolo che fa vita a sé nella sua stanza, quindi non ho più quei disturbi che avevo all'epoca. Quindi rimango in casa con due gatti che mi fanno un'enorme compagnia e continuo a studiare. E sì, quando casomai c'è l'interferenza, se è nociva, se dà fastidio, se è inutile, io lo faccio zittire al piccolo per esempio, dico Michele dai mamma sta studiando perché preparo diapositiva eccetera. Altrimenti molte volte, per esempio, cerco di finire in un certo periodo di tempo e poi mi dedico a lui, facciamo cose insieme, usciamo insieme, soprattutto usciamo insieme perché io non sono una mamma, proprio come stampo, capace di raccontare favole, di stare lì, ma sono una mamma molto dinamica, quindi loro mi hanno sempre avuto vicino per uscite, passeggiate, prima si facevano gite in campagna, in questo senso, quindi a secondo i loro desideri, in maniera dinamica. Noi quest'anno abbiamo avuto la possibilità di leggere la storia di Malala, una ragazza che ha vissuto con dolore il suo desiderio di studiare, perché è stata perseguitata dai talebani che addirittura l'hanno sparata, in quanto con suo padre che portava avanti una scuola femminile che credeva fermamente nell'istruzione femminile, lei ha dovuto vivere il conflitto con i talebani che affermavano che le donne non possono studiare. Quindi lei alla fine è stata sparata per questo motivo ed è candidata al premio Nobel per la pace 2013 e racconta il dolore della ragazza che deve lasciare, deve abbandonare i suoi quaderni, deve abbandonare il suo desiderio di diventare dottore, perché un gruppo di uomini che vedono la donna solo in una funzione decidono che lei debba stare a casa. Claudia, nel momento in cui tu come ragazza che cominciava il liceo e poi dopo l'università, quando hai manifestato il desiderio ai tuoi genitori di diventare giornalista, qual è stata la reazione che hai avuto dei tuoi genitori? È stata estremamente positiva, mi hanno sempre sostenuta e soprattutto non hanno mai deciso loro al posto mio. Mi hanno anche incoraggiata ad andare a studiare fuori per vedere come si vive fuori dal sud Italia, per poter avere un termine di paragone con un'altra realtà. E quindi dove hai studiato? Io ho studiato a Urbino e poi ho girato un po', ho lavorato per un periodo a Roma, a Milano, a Napoli, a Pescara, a Bari. Mi sono mossa un po'. Una breve incursione in Spagna per l'Erasmus. Ho fatto tante esperienze e queste mi stanno aiutando molto nel momento in cui sono rientrata. In che modo ti aiutano queste esperienze che hai fatto fuori, che hai vissuto fuori? Beh, sì... Intanto si capisce che questa non è l'unica realtà, l'unico modo di pensare, l'unico modo di fare. Si conoscono abitudini diverse, costumi diversi e ci si relaziona con persone non solo italiane. Quindi c'è anche un discorso di venire a conoscenza e a contatto con le culture straniere. La musica mette in moto l'emisfero destro e quindi ci apre a un mondo particolare, il mondo dell'inconscio, della creatività. Una figura che ti ha colpito, no? Che mi ha colpito molto. Dal punto di vista, ecco, sì, nella lirica. Ci puoi accennare magari un po' un canto? A me piace molto Tosca come personaggio femminile perché è molto passionale, lei ama Mario Cavaradossi, un pittore, lei è una cantante lirica all'interno dell'opera. Alla fine, insomma, uccide Scarpia, che è il capo della polizia a Roma, perché lui la vuole avere, diciamo, non solo... Sessualmente. Sessualmente, sì. La vuole possedere perché è il suo tormento e alla fine hanno un accordo, si fanno un accordo fra di loro perché Cavaradossi ha aiutato un fuggitivo, siamo nell'epoca di Napoleone Bonaparte, no? E quindi fanno un accordo perché Cavaradossi viene imprigionato cercando di scagionarlo. Fingono una finta uccisione e invece Scarpia, ovviamente, non dà l'ok per questa finta uccisione. Cavaradossi viene ucciso a fucilate e Tosca, quando va per rinvenire il corpo, si accorge che Mario è morto e lei si butta da Castel Sant'Angelo perché Cavaradossi è imprigionato a Castel Sant'Angelo. E niente, quindi questa forza... Io non avrei mai avuto il coraggio di buttarmi da Castel Sant'Angelo. Quindi... Per nessun Cavaradossi di questo mondo. Assolutamente no. Però, diciamo, molte eroine lo fanno nell'opera o si suicidano, oppure, per esempio, Violetta rinuncia all'amore di Alfredo, Mimì muore di Tisi, cioè ci sono tante... Però ci incuriosisci con questa carrellata di nomi femminili, di opere. Cantaci qualcosa. Una così, a cappella, guarda... Senza strumenti. Ma sì. Vabbè, vi posso cantare un pezzettino di Musetta che è il personaggio un po' frivolo, quella che non muore. Quando me muo, quando me muo, soletta per la via, la gente sostenirà e la bellezza mia tutta ricerca in me ricerca in me da capo a pie Bravissima. Veramente. È vero che si è spaccato il microfono, però... Non so, spero di no, altrimenti mi chiedono i danni. No, bravissima, veramente bello questo... Ecco, il canto, no? La musica, l'arte ci collega. Come diceva Platone, la voce è il fuoco dell'anima. Ecco. Chi lo diceva? Platone. Platone. Ecco. Questa è una frase che ho impresso col fuoco nella mia mente, per cui non posso non cantare, cioè lo devo fare perché è una cosa che viene da dentro, con le emozioni, perché ovviamente prima di cantare c'è sempre l'adrenalina a mille, il cuore che batte. E c'è questo sacro fuoco dell'arte, quindi è vero che esiste questo sacro fuoco dell'arte, che ci prende e non ci molla. E io in quel momento, prima di entrare in scena, prima di cantare un'aria, anche durante un'audizione, perché per me le audizioni sono... Cioè mi metto una dura prova, però sono ovviamente la... Come dire... Se non c'è l'audizione, è l'essere del cantante, insomma. Io mi accorgo di essere viva in quei momenti, e dico, meno male che esistono queste cose, altrimenti sarei una macchina che fa, non so, certe volte non invidio nemmeno quelli che sono dietro le scrivanie, o dietro... perché fanno dalla mattina a sera la stessa cosa vicino a un computer, invece io esprimo, oppure vedo, non so, il pubblico che ha pagato il biglietto per me, e questa cosa mi rende orgogliosa, e è in dovere, nei confronti del pubblico, di fare bene, di fare... Quindi non è per narcisismo, è proprio perché c'è questo fuoco... Il fuoco che viene riconosciuto. Tra l'altro è anche un donarsi. Ecco, certo, è un dono, certo è un dono. Io, essendo pianista, quando facevo i saggi da bambina, suonavo, ma era un rapporto, diciamo, mio e col pianoforte, diretto, con lo strumento, avevo, diciamo, il pubblico, se uno suona il pianoforte, ce l'hai, diciamo, di lato, per cui non guardi negli occhi il pubblico. Nel momento in cui canti, hai di fronte migliaia di persone, centinaia di persone. Quindi devi interagire con loro direttamente, con le loro emozioni, questo è importante, no? Sì. Quindi interagendo con le emozioni hai un riscontro immediato di quello che tu stai dando? Sì, sì, io penso di sì, perché nel momento in cui arriva il brivido a me, io penso sia arrivato anche il pubblico. Certo. Tu hai utilizzato un termine, no? Per parlare di queste rovine, di uomini che vogliono possedere. E questo possesso è proprio il, diciamo, ciò che sta causando una situazione tragica in India, dove ancora non riusciamo a spiegarci come mai donne vengono stuprate di fronte all'indifferenza generale e che cosa sta scattando nella mente di questi uomini che in quel momento perdono il controllo di se stessi, quindi fanno prevalere queste forze brutali. Alcuni dicono che probabilmente c'è un io fragile che viene fuori e questo io fragile si manifesta proprio in questo desiderio di possesso per cui se la donna si sottrae volontariamente a questo possesso l'uomo pensa di doverla addirittura sfregiare. E' il caso di questa ragazza, Naziran, che abbiamo questo libro bruciata con l'acido e lei dice avevo vent'anni quando il mio volto è stato cancellato per sempre. E quindi queste ulcere... Angela, ti è mai capitato di dover curare ferite di questo tipo? di persone sfregiate per qualche situazione? Sì, diciamo che però il caso che più mi ha colpito negativamente è stato quello recente. Mi è capitato qualcosa del genere. Chiaramente tendono a dimascherare. Ma quest'ultimo caso mi ha colpito. E anche un mese fa è venuta una bella signora, devo dire, di una certa età per delle problematiche di uccele venose ma molto minime. notavo un atteggiamento depresso, un atteggiamento molto dimesso. Per cui ho cominciato un po' a indagare perché ho detto signora guardi le ulcere sono espressioni di quello che noi abbiamo come patologie o di quello che noi viviamo quindi è importante che io conosca un po' lei. Siccome aveva delle titubanze relative ad alcune risposte ho fatto entrare il marito ma era una mossa perché avevo capito che c'era qualcosa che non quadrava entra quest'uomo che onestamente a parte l'aspetto fisico veramente orripilante rispetto a lei ma non è questa la cosa il problema c'era qualcosa di negativo in quest'uomo infatti l'ho fatto subito accomodare fuori ho continuato l'indagine anamnestica su di lei per farla breve era la mamma di una ragazza a cui il marito aveva sfondato il timpano tre giorni prima quattro giorni prima cioè la ragazza non sentiva più dall'orecchio sinistro e questo era l'acme di una serie di violenze in casa e il marito quel signore che avevo fatto accomodare cosciente di questa situazione continuava a mascherarla dicendo va bene alla figlia accettalo è stato un momento di rabbia la figlia non ci sentiva più dall'orecchio sinistro ed era irreversibile a visita o Torino io a quel punto veramente indignato detto signor scusi lasciamo perdere quella persona che lei è accanto che non so come apostrofare perché chiamarlo uomo mi sembrava eccessivo dico ma lei cosa attende di vedere sul giornale la notizia che sua figlia è stata ammazzata da questa persona dico esistono mille modi e questo è un invito anche alle donne esistono i telefoni in cui tu non devi dare minimamente i tuoi estremi quindi anche in anonimato puoi però denunciare certe situazioni poi dico come madre io mi sarei scagliata contro quello quello prima dove affrontare cioè io sono una donna molto devo dire la verità passionale sui figli cioè guai chi li tocca vivo in questa area quindi non avrei avuto sicuramente paura di un brutto del genere ma anzi sarei stata io la prima affronteggiata a difendere mia figlia l'avresti brutalizzato ma guarda penso che debbano temermi più che perché in realtà non riesco ad ammettere la violenza in genere poi per i miei figli chiaramente ancora di più non non riuscirei insomma sicuramente non farei finta di niente quindi questo atteggiamento addirittura di omissione di un fatto così grave non nascondo che mi ha sconvolto tant'è vero che poi la signora è più venuta perché dopo che io ho detto guardi signora lei ha bisogno veramente di una serie a psicanalisi di un serio inquadramento nello stesso tempo ho bisogno di prendere atto della situazione e denunciarla per sua figlia per aiutare sua figlia non le ho più rivisti ed è una cosa che mi fa molto male perché una madre secondo me una donna che non si indigni che non prenda posizione di fronte a queste brutalità diventa complice secondo me di queste persone questo è il mio è proprio questa complicità perché noi guarda scusami e poi ti rompo subito a volte io dico che le peggiori nemiche delle donne sono le donne i giudizi veloci superficiali su una donna casomai con un corpo non particolarmente perfetto però con la minigonna o su un vezzo di una donna ormai fuori età quel pettegolezzi quelle critiche quel non essere alleati secondo me creano un'opinione comune che è molto molto negativa io le vedo molto a volte nelle donne quindi donne nemiche nemiche delle altre donne e questo è una cosa che secondo me dovremmo cominciare a eliminare è importante che ci sia il gruppo benvengano queste idee di comunione tra le donne di dialogo tra le donne in maniera tale da dire che qui noi ci siamo e dovete rispettarci per tutto quello che noi facciamo e per quello che rappresentiamo per la società Jung diceva guai a quelle figlie le cui mamme non hanno vissuto ma questo possiamo dirlo di tutti possiamo dirlo di tutte le donne che non vivendo una vita loro non avendo il coraggio di vivere con autenticità quelle che sono le loro passioni al di là del sacro fuoco dell'arte ma vivere con autenticità ciò che si è quello che una persona desidera ciò che sente dentro inelibilabile per vivere può portare davvero a una strada di verità a una strada di consapevolezza per cui molto spesso le donne che giudicano le donne che invidiano le donne che entrano in competizione sono quelle che non hanno il coraggio di seguire perché comunque ogni strada che si segue in qualsiasi campo ha un prezzo da pagare e allora se uno non è disposto a pagare il prezzo si limita a guardare la vita dietro la vetrina che è anche un'immagine psicoanalitica quando si sogna di guardare il mondo dal di fuori cioè dall'interno di una casa quindi vedere il mondo dietro una vetrina vuol dire non avere il coraggio di gettarsi nella vita di lanciarsi Claudia ti è mai capitato di dover scrivere un pezzo su un giornale che denunciasse una molestia femminile una violenza subita? No sinceramente ancora no per fortuna no per fortuna no proprio a proposito di come viene trattato l'argomento volevo dire una cosa la televisione oggi ci racconta di un omicidio ogni tre giorni sembra che il problema sia nato negli ultimi anni quando in realtà il problema c'è sempre stato anzi probabilmente 50 anni fa c'era di più e 50 anni fa alcuni atteggiamenti venivano considerati normali gli atteggiamenti secondo te erano normali? per esempio che un marito potesse picchiare non venivano probabilmente anche dalle stesse donne ritenuti atteggiamenti gravi o atteggiamenti strani chiamiamoli così adesso per fortuna nonostante i casi siano tantissimi il problema non sia assolutamente risolto se ne parla di più perché il problema è un problema di cultura so che di recente l'Italia ha modificato le leggi sulla tutela della donna ma non è certo l'unica soluzione quella di inasprire le pene perché chi ha atteggiamenti aggressivi a questo tipo di comportamenti non si preoccupa mai prima della pena che dovrà scontare quindi dobbiamo parlarne per questo sì benvengano tutte le iniziative benvenga che se ne parli ma a me non piace che si dica che il problema è nato ora recentemente no il problema effettivamente noi dobbiamo dire che il problema della violenza e dell'aggressività è sempre esistito l'aggressività però è anche vero che l'aggressività purtroppo a volte si respira in famiglia noi abbiamo uno psicologo che tanti anni fa Bandura ha fatto degli esperimenti psicologici ha posto dei bambini in una stanza dove c'era una bambola di gomma chiamata Bobo Doll e loro picchiavano questa bambola poi in un'altra stanza un altro gruppo di bambini giocava con dei giochi normalmente in un'altra stanza ancora i bambini interagivano con degli adulti senza nessun tipo di gioco hanno fatto vedere a questi bambini nella stanza in cui si voleva manifestare questa aggressività quindi per studiare poi il loro comportamento e hanno notato alla fine di questi esperimenti che i bambini posti da soli in una stanza con una bambola di gomma quelli che avevano vissuto l'aggressività cominciavano a picchiare duro la bambola mentre gli altri li guardavano stupefatti quindi questo ce la dice lunga di come l'aggressività noi la assorbiamo tra l'altro esperimenti successivi hanno posto in luce come l'aggressività vissuta in modo virtuale cioè l'aggressività che noi assorbiamo da film violenti da giochi violenti incida ancora più profondamente nella psiche quindi ecco probabilmente quando tu dici effettivamente dovremmo denunciare questi episodi che non sono nati oggi perché purtroppo la violenza accompagna l'uomo solo che il primo stadio è avvertire in sé il rancore il secondo stadio è provare aggressività il terzo stadio nel momento in cui quell'aggressività non viene orientata è quello della violenza e questo è proprio diciamo che dobbiamo evitare canto Anna Maria di una donna che invece è morta ma che aveva manifestato atteggiamenti diversi da quelli dell'eroine che subiscono sempre ce ne sono tante va bene scegliere una c'è Desdemona dell'Otello che per esempio viene ammazzata da Otello Mimì muore perché muore di Tisi cantaci Mimì dai perché comunque guarda e questo poi chiediamo il parere alla dottoressa se è così noi prima di ammalarci fisicamente è come se prepariamo un grembo psichico al dolore fisico sono stati studiati tutti i malanni di origine psicosomatica per cui la Tisi era un male dell'epoca molte donne morivano di Tisi il mal sottile anche Violetta era malata di tubercolosi però probabilmente predisponeva il corpo a questa tristezza era una violenza personale un masochismo una autoaggressività e quindi poi si predisponevano alla morte se non avevano l'amato del loro cuore allora ci fai sentire Mimì? va bene la primaria no? Sì mi chiamano Mimì ma il mio nome è Lucia la storia mia è breve a te a te o a seta ricama in casa e fuori son tranquilla e lieta ed è mio svago a te mi piacciono quelle cose che anzi dolce e malia che parlano d'amor di di primavera che parlano di sogni e di chimere quelle cose che hanno come poesia come poesia poi le dice a Rodolfo lei mi intende e lui risponde sì possiamo dubitare di questo intendere di quest'uomo e va bene ma lui intendeva qualche altra cosa perché lui era poeta Rodolfo era poeta siccome parlava della poesia le piaceva fare non so i fiori di carta qui è l'area in cui lei racconta di sé a Rodolfo si incontrano in questa soffitta a Parigi quindi ecco quante volte le donne non sono intese cioè non si sentono capite quasi sempre secondo me quasi sempre non si sentono capite no perché secondo te Anna Maria ma non lo so perché secondo me l'universo femminile è un mondo è un universo completamente diverso da quello maschile io penso che una stessa cosa venga intesa in una certa maniera dalla donna e in un altro dall'uomo per cui è difficile entrare anche in comunione no difficilmente ho visto i miei genitori bastava uno sguardo e loro si intendevano oggi secondo me è diventato più difficile perché la donna secondo me si è emancipata questo sì rispetto alla donna che era 50 anni fa o 80 anni fa più sottomessa adesso la donna è un pochino più indipendente diciamo così egoista diciamo è diversa per cui l'uomo secondo me non trova più come dire la porta d'ingresso per interagire per riuscire a capire quello che la donna pensa però diciamo le qualità femminili sono proprio quelle della tenerezza e dell'accoglienza quindi forse noi a questo riguardo dovremmo lavorare di più per riuscire ad avere questa porta d'ingresso sempre spalancata all'universo maschile tra l'altro essendo madri dei figli dei futuri maschi della società effettivamente se non viviamo con loro un'interazione positiva poi creiamo dei danni sociali quindi non dovremmo dovremmo sicuramente seguire quelle che sono le nostre inclinazioni dovremmo seguire le nostre passioni ma senza dimenticare quello che è lo specifico del femminile cioè proprio l'accoglienza la tenerezza la disponibilità e anche questo capire senza parole l'unico problema è quello di lavorare sul proprio io perché tu parlavi appunto di egoismo ma non è solo l'egoismo che porta a chiudersi e anche molte volte una diciamo rilettura della vita della storia che invece di accogliere gli altri porta a una chiusura cognitiva secondo me si sta anche esagerando nel senso opposto questa tenerezza sta un po' scemando quella di cui parlavi tu per cui l'uomo secondo me ha anche paura e quindi ha portato non so a picchiare forse perché la donna secondo lui possa diciamo prevalere su di lui quindi ha paura avendo paura sì perché la donna secondo me è diventata più sicura di se stessa quindi questa sicurezza secondo me lo spaventa Angela questo caso che hai raccontato che è veramente emblematico del mondo in cui tu vivi dove ti rendi conto di certe cose perché appunto le ulcere rappresentano un estremo tentativo del corpo di portare alla luce ecco allo strato epidermico ciò che non va nel momento in cui tu ti rendi conto come dottoressa che ci sono situazioni di questo tipo dal punto di vista legale puoi fare qualcosa o no? Allora purtroppo noi siamo veramente blindati dal punto di vista legale del tipo spesso nel reparto sono capitati i casi di HIV persone sposate e noi non abbiamo assolutamente il permesso di avvisare il coniuge il compagno la compagna di quello che l'altro è affetto dico HIV dico qualunque malattia infettiva trasmissibile dico qualunque situazione siamo un po' come i preti cioè nel confessionale quindi questo no possiamo cercare di agire sulla persona anche se stanno inficiando sempre più questo grazie a mass media il rapporto medico-paziente però possiamo cercare di agire sulla persona cercando di sensibilizzarlo al suo problema e di renderlo partecipe e quindi di prendere delle decisioni che non implicano e coinvolgono le persone accanto a lui però noi personalmente siamo abbastanza blindati adesso poi con tutte le leggi collegate alla privacy questo quest'altro veramente bisogna stare molto attenti a come ci si muove siamo veramente sotto il mirino secondo me è una categoria una delle categorie più pressate dal punto di vista proprio di controlli di consensi che devono essere fatti ci arrivano continuamente una burocrazia spietata che se da una parte giusto dall'altra parte però ha molto 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 inficiato il rapporto medico-paziente sia come tempo perché o compiliamo le carte o pensiamo al paziente e siccome siamo sempre noi e noi considerato la riduzione ormai il disastro in cui sta la sanità in particolare in Puglia e sia proprio come possibilità di colloquio perché io mi allaccio un po' a quello che diceva Anna Maria secondo me non è tanto un problema uomo-donna è un problema ormai di essere viventi c'è una io vedo una Babilonia tra noi essere viventi non riusciamo più a comunicare cioè i linguaggi sono diversi si evidenzia che il tema oggi è uomo-donna si evidenzia anche tra uomo e donna ma anche tra donne e donne uomini e uomini c'è proprio una difficoltà di comprensione c'è un tentativo di prevaricazione costante di ciascuno di noi nel colloquio non è più un colloquio ovviamente sono monologhi a volte anche urlati e quindi secondo me tutto questo questa difficoltà a comunicare fra di noi poi alla base di tutte le incomprensioni dal nucleo familiare alla coppia e alla società in genere quindi quello che dovremmo fare è coscientizzare per ciò che c'è possibile ciascuno di noi nel suo campo sì uomini e donne ha un atteggiamento diverso un atteggiamento diverso è che io penso che è vero noi almeno noi io e Anna Maria perché lei è più giovane io e Anna Maria in portia noi stiamo vivendo rapidamente tutto noi siamo passati dall'epoca in cui le mamme stavano zitte e sottomesse ai nostri padri a un'epoca in cui noi non stiamo zitte e sottomesse a nessuno come siamo passati dal telefono attaccato al muro al cellulare in questa evoluzione c'è la nostra evoluzione che sta coincidendo con l'evoluzione dell'uomo io molte volte mi commuovo perché devo dire e devo dare atto che ho tantissimi colleghi separati con dei figli che adorano i figli cosa che prima non era dell'uomo ma dell'uomo era della donna semplicemente oppure io vedo per strada tanti più papà che portano carrossini che badano ai propri figli quindi anche l'uomo sta evolvendo il problema è che siamo due mondi che stanno due mondi bellissimi se si riescono a interagire se c'è alchimia ma che stanno evolvendo contemporaneamente e a volte vi è difficoltà in questa evoluzione nel proprio nel conoscersi profondamente nel riuscire a colloquiare profondamente tutto questo poi crea le disgregazioni e tutto quello che sta che noi vediamo fino ai casi estremi di queste situazioni ma anche quelle nostre locali perché qui già parliamo di una società malata qui c'è un'idea dominante che ancora deve essere sfatata ma da noi in cui il progresso dovrebbe aver già seminato qualcosa questo possesso questa paura di perdere potere sta portando a degli estremismi che ogni giorno purtroppo si presentano ecco allora noi dovremmo quindi coscientizzare donne uomini dovremmo non dimenticare quello che il genio femminile Giovanni Paolo II in una lettera alle donne a Pichino nel 1995 Adizur affermava grazie a te donna per il fatto proprio di essere donna quindi donna come dono dono per se stesse e per gli altri perché probabilmente questa problematica sulla comunicazione nasce quando non ci si conosce quando non si ha consapevolezza delle proprie arie quindi se non si ha consapevolezza di se stessi è chiaro che poi il discorso è ingarbugliato prima con se stessi e poi con gli altri bene io ringrazio Angela la dottoressa Angela Garruba ringrazio la giornalista Claudia Ceci e la soprano Anna Maria Stella Pansini senza base senza niente noi ti abbiamo spinto a interpretare eroine femminili e comunque grazie a tutte le donne che ci seguono non dimenticando mai che lo specifico di ciascuno di noi è proprio quello della tenerezza dell'accoglienza del lavoro su di sé per vivere con sincerità il rapporto con gli altri quindi con autenticità ed è quello che ci auguriamo che la giornata della donna possa essere una coscientizzazione a vivere il mondo con sincerità con autenticità grazie grazie a te ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via ti solleverò dai dolori dai tuoi spazi d'umore dalle ossessioni delle tue manie grazie a te